Amici e amiche di Canottaggio, siamo a Mercatale per la seconda edizione dei campionati italiani master e dopo il meeting nazionale agli evicadetti e master di Candia siamo nuovamente in diretta streaming. Per seguire le emozioni di questa manifestazione, le immagini delle gare, i commenti dei protagonisti è molto ma molto semplice. Basta collegarsi a www.canottaggiovideo.net e cliccare sul riquadro streaming in alto al centro. Entrerete direttamente sul canale video del live streaming della manifestazione dei campionati italiani master che potete seguire oggi pomeriggio sabato dalle ore 15 e 30 e poi domani l'intera giornata di finali con anche le premiazioni. Oppure in alternativa potete collegarvi a www.canottaggio.org e cliccare sul banner di destra dedicato a Canottaggio Video. Aprendo vi ritroverete nuovamente l'home page del canale video della Federazione Italiana Canottaggio, potrete cliccare nuovamente su live streaming oppure ancora più semplicemente troverete in primo piano su canottaggio.org il link dove potrete accedere alla diretta dei campionati italiani master e seguire tutte le emozioni, l'entusiasmo dei vogatori, delle vogatrici master in competizione tra loro per il successo nei campionati italiani qui al lago di Mercatale Sasso Corvaro.